Il mio più cordiale namaste a tutti voi amici. Oggi sono qui con Nadia per proporvi il Pawan Muktasana, esercizio fondamentale e importante soprattutto per chi cominciasse una pratica corretta di yoga. Nadia è solo l'ultima dei tantissimi insegnanti formatici nella Yoga Teacher School, ma è anche la prima, quindi sono particolarmente emozionato, affreggiarsi della certificazione di quarto livello a vita natural durante col marchio Natural Tonic e Yoga Teacher. Lascio la parola a Nadia. Ciao, mi chiamo Nadia Donato, ho 36 anni e abito a Chierin, provincia di Torino. Ho aperto l'anno scorso nel centro della mia città uno studio di messaggi professionali che ho chiamato Altro ed Altrove, in omaggio ad Angelo Branduardi, cantatore italiano. Mi sono letteralmente innamorata del mondo del benessere ed è per questo che sono qui ad apprendere lo yoga innanzitutto per me, come tutte le gioie più grandi della vita, per poterlo poi condividere con gli altri. Oggi vi presenterò il Pawa Muttasana, gruppo cronologico di 17 esercizi per cominciare la pratica dello yoga, per problematiche reumatiche e articolari. Sono esercizi semplicissimi da effettuare, lo vedrete, in posizione seduta e non hanno nessuna condividicazione. Buona visione! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.